E' stata la porta della speranza per milioni di persone che sognavano un futuro negli Stati Uniti d'America. 12 milioni per l'esattezza si calcola siano transitati dal porto di Ellis Island tra 1892 e 1954 quando chiuse il centro di immigrazione per gli Stati Uniti. L'isola deve il nome a Samuel Ellis che l'acquistò verso il finire del XVIII secolo mentre passò agli Stati Uniti solo all'inizio dell'Ottocento. Per alcuni è ricordata anche come l'isola delle lacrime, una minoranza, quelle persone che venivano non accettate dagli Stati Uniti e quindi rispedite immediatamente sulle navi da cui erano appena sbarcati. Allo sbarco infatti a Ellis Island le persone venivano sottoposte a dei test fisici e psicologici e chi non li superava doveva far ritorno al paese di provenienza. Quando, dopo la chiusura, Ellis Island ebbe un periodo così di oblio, fu riscoperta poi nel 1990 quando divenne un centro per i turisti, un museo nazionale dell'immigrazione a cui si accede oggi con lo stesso biglietto che dà accesso alla Statua della Libertà. E' fino a Gibilterà. Grazie. 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 Grazie.